ben ritrovati amici di youtube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calcio mercato piatto ricco micifico tante tante novità sulla juve sull'inter sulla roma insomma il menù è di quelli abbondanti anche oggi che festa 25 aprile magari molti di voi saranno al mare in montagna weekend lungo beati voi noi si lavora ma fa parte del gioco e allora magari tra una siesta tra un viaggio tra un momento di relax potete anche ascoltare e seguire questo video dove ci sono tante novità interessanti partiamo dalla roma roma che stasera tra l'altro gioca in quel di udine il recupero della gara rinviata per il malore poi fortunatamente è andato tutto per il meglio di indica che ha avuto di nuovo l'idonità sportiva presto li vediamo in campo in bocca al lupo è roma che però pensa già al futuro perché perché la roma la roma le idee chiare due priorità in questo momento la scelta del nuovo responsabile dell'area tecnica direttore sportivo valutazioni in corso ci sono diversi nomi de rossi ha caldeggiato usiamo così questo termine ha fatto un endorsement nei confronti di nicolas burdisso che lascerà la fiorentina dopo l'esperienza da responsabile dell'area tecnica ha firmato dei colpi importanti tipo lucas beltran però lascerà firenze e potrebbe tornare alla roma dove ha già giocato un grande rapporto con de rossi portò daniele de rossi al bocca juniors qualche anno fa ricorderete quindi attenzione al nome di nicolas burdisso resta sempre nel cast françois modesto del monza che ha un grande rapporto con l'ina socoglu ovvero il ceo della roma i due hanno lavorato insieme all'olimpiacos ci può essere anche una soluzione interna da non trascurare ma in questo momento la priorità di de rossi è la blindatura di paolo di bala la hoia la hoia fa la differenza giocatore straordinario che la roma non vuole perdere tanto che si parlerà nelle prossime settimane del rinnovo di bala attualmente ha un contratto da 6 milioni a stagione scade nel 2025 l'idea della roma di allungare il 2026 magari anche il 2027 con stesso stipendio con una serie di bonus per arrivare a 7 7 e mezzo con i premi con le componenti aggiuntive per cercare di blindare la hoia e soprattutto cancellare quella pericolosa clausola recistoria che si attiva ed è valida dal primo al 31 luglio per i club stranieri 12 milioni che insomma rapporto qualità prezzo è vero che di bala viaggia per i 31 anni ma può essere un'occasione invitante tanto che qualche società inglese soprattutto ma anche dall'arabia saudita ci ha fatto un pensierino hanno già sondato il terreno in passato di bala ha detto no di bala sta bene a roma la priorità la sta dando al club giallo rosso ma bisogna arrivare a una quadra bisogna trovare un'intesa per la blindatura e poi attenzione a spinazzola che era sicuro partente in scadenza 100% con murino non c'era più grande feeling sarebbe andato via con de rossi è tornato protagonista è vero spesso ha avuto guai fisici però insomma se spinazzola sta bene è un giocatore che può essere ancora importante la roma sta valutando la possibilità di offrire un rinnovo biennale non alle attuali condizioni spinazzola guadagna 3 milioni a stagione sono tanti sono troppi se lui accettasse un'importante riduzione dello stipendio magari non dico dimezzarselo però intorno al milione 7 milione 8 massimo 2 milioni si potrebbe ragionare magari sulla possibilità di un rinnovo biennale per un giocatore comunque che ha 31 anni ma è ancora importante l'abbiamo visto in europa l'incontro al milano se spinazzola sta bene è ancora uno dei migliori terzini è chiaro fisicamente spesso diciamo che marca visita e non dà garanzie ma con de rossi ha un feeling importante i due sono stati protagonisti del trionfo euro 2020 quando de rossi erano lo staff di roberto mancini e spinazzola è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra all'ultimo europeo dunque una situazione che va tenuta d'occhio un bel finale di stagione potrebbe permettere a spinazzola di garantirsi il rinnovo in casa roma con la priorità invece della blindatura di paolo di bala chi era stato corteggiato a lungo dalla roma qualche anno fa invece poi scelse l'inter è nicolo barella nicolo barella che scelse l'inter invece che la roma lo voleva anche napoli aveva tante offerte un matrimonio che si è rivelato straordinario nell'estate 2019 barella che è sempre più un simbolo dell'inter qualcuno lo chiama anche capitano futuro vedremo se poi la fascia la prenderà lui la prenderà di marco insomma però è chiaro che barella è un simbolo di questa inter ha voglia di restare all'inter è vero piace al club importanti stranieri che hanno sondato il terreno ma la sensazione insomma che alla fine barella possa restare anzi con tutta probabilità al di là poi del fatto che marotta in questi giorni ha predicato calma ha detto non c'è ansia non c'è fretta ma la volontà invece di arrivare alla blindatura del centrocampista sardo fino al 2029 barella attualmente in scadenza nel 2026 guadagna 6 milioni a stagione l'inter è pronta ad allungare il contratto sino al 2029 quindi un rinnovo importante sino a quando barella che è un classe 97 avrà 32 anni quindi è l'ultimo forse grande contratto della carriera pronto anche un adeguamento di stipendio da 6 milioni a stagione a 6 e mezzo più bonus il bonus dovrebbe aggirarsi tra i 500 mila euro e il milione quindi coi bonus potrebbe arrivare a 7 forse anche 7 e mezzo le parti stanno lavorando il suo agente alessandro beltrami in fitto contatto con la dirigenza dell'inter ci sono già stati tre incontri negli ultimi due mesi c'è la volontà di andare avanti insieme la sensazione che insomma da qui all'estate possa arrivare il rinnovo di barella scadenza 2029 con adeguamento dello stipendio avanti insieme perché barella vuole restare all'inter perché l'inter e peppe marotta e non so anche pia rosiglio ritengono fondamentale la matrice la componente italiana per aprire un ciclo di successi che l'inter sta portando avanti e intende per far proseguire a lungo con barella sempre più protagonista e tanto che barella comunque in passato ha detto no atletico madrid newcastle paris saint germain tante squadre negli ultimi anni avevano cercato barella erano arrivate anche delle offerte importanti che è stata scorsa 80 milioni offerta il newcastle l'inter ha detto di no soprattutto perché il giocatore ha detto no poi il newcastle ha virato su sandro tonali abbiamo parlato di newcastle non a caso perché perché newcastle è tra le squadre che segue che vuole michele di gregorio già a gennaio newcastle aveva offerto 20 milioni al monza no di galliani ma soprattutto che non voleva privarsi del suo gioiello a stagione in corso e no soprattutto del giocatore che di andare all'estero non è molto allettato preferirebbe restare in italia anzi vuole restare in italia vuole una big italiana piace a tutti non mancano le pretendenti per di gregorio ma c'è una squadra che sta accelerando ed è la juve la juve accelera la juve mette la freccia la juve mette appunto la freccia e va in corsia di sorpasso sulle altre pretendenti cristiano giunto i blizza milano nelle scorse ore ieri è stato a milano l'uomo mercato del club bianconero è stato a cena nel cuore di milano in centro in zona brera con adriano galliani il ceo del monza una cena importante una cena nella quale si è parlato di diversi argomenti tra cui andrà colpani la juve ha chiesto informazioni colpani piace anche all'atalanta è un prodotto del bivario quindi potrebbe essere utile in chiave liste per i nerazzurri colpani piace anche alla lazio ma soprattutto la juve ha messo la freccia e vuole bloccare michele di gregorio non vuole spendere 20 milioni chiesti dal monza si ragiona su una cifra intorno ai 15 milioni più dei bonus solo inserimento di una contropartita tecnica la juve ha tanti giovani che possono interessare al monza la juve che è molto avanti anche col giocatore che ha dato il suo benestare al trasferimento perché perché nell'idea della juve c'è di formare la coppia cesni di gregorio perin ha voglia di giocare perin è pronto ad andare via perin vuole vivere un finale di carriera da protagonista da titolare ha qualche offerta e quindi la sensazione che possa partire cesni ancora un anno di contratto non ha accettato la spalmatura quindi rimarrà a guadagnare 6 milioni e mezzo netti più bonus per arrivare a 7 e mezzo ma probabilmente sarà il suo ultimo anno quindi la juve pensa al futuro si vuole cautelare con un portiere che ha giuntoli ricorda angelo peruzzi un portiere forte da juve ma anche in prospettiva da nazionale appunto di gregorio e quindi l'idea è fare la coppia cesni di gregorio con di gregorio che poi possa eventualmente scalzare diventare l'erede e il titolare in bianco nero questa è la strategia juve all'insegna delle porte girevoli fa bene la juve prendere di gregorio come lo vedreste in bianco nero ditemi la vostra naturalmente così come voglio sapere tutti i vostri pareri sulle mosse della roma il tentativo di blindare paolo di bala l'eventuale rinnovo di spinazzola il possibile arrivo di burdisso come uomo mercato cosa ne pensate anche qui tutti i pareri domande e considerazioni nei commenti sotto il video stessa cosa in chiave interna blindatura di barella vale la pena quel tipo di stipendi oppure di fronte un'offerta importante valutereste magari il sacrificio voglio sapere naturalmente anche qui tutti i vostri pareri domande e considerazioni sotto il video in alto a destra la campanella attivare per avere tutte le notifiche in tempo reale su ciò che viene prodotto e mandato online qui a sinistra lo vedete pollicione tempo di un respiro fate clic se volete vi iscrivete al canale siamo e siete in tantissimi e quindi insomma invito sempre lo stesso costa niente fate clic però ci date affetto sostegno insomma i numeri che crescono significa che viene fatto qualcosa di buono e interessante se appunto il video vi è piaciuto se avete piacere potete anche condividere sulle altre piattaforme social su facebook su twitter che poi adesso si chiama x su instagram se volete nelle chat telegram whatsapp insomma dove vi pare come dico sempre andate magari moltiplicatevi insomma e facciamo il pieno di visualizzazioni ma soprattutto insomma grazie per essere stati in mia compagnia e che dire ci vediamo domani ciao a tutti